La pop star che ha sfornato numerosi tormentoni, ha confessato di soffrire questo termine che sminuisce le canzoni estive, per me sono come le altre, se hanno una bella melodia, un bel testo, e il resto, funzionano. Al di là della stagione, le hit, già dal nome, rompono muri, colpiscono. L'ultima hit è con Tananai, storie brevi, la cui idea è partita dal collega, mi ha tirato dentro lui, con cui condivido lo stesso team, composto da Davide Simonetta e Paolo Antonacci. In studio, grosso modo, siamo sempre noi tre. Stavolta l'idea è partita da loro. Io sono entrata in fase di scrittura sulle mie parti. Ha raccontato di condividere con il cantante un rapporto di amicizia. Siamo proprio amici. Quando ci vediamo in contesti non professionali, non parliamo di lavoro. C'è spazio. Ecco, per amicizie vere, vanno coltivate. Annalisa commentando il suo successo, ha detto la sua riguardo la conquista del proprio spazio nel panorama musicale. Al giorno d'oggi è difficilissimo prendersi degli spazi, avere credibilità in ciò che si fa, al contrario degli artisti uomini, per cui è più semplice. Forse per pregiudizi, forse perché hanno cominciato prima, non so. So che sono stati fatti tanti passi avanti, altri li stiamo facendo ora, altri ancora. Spero, le faranno le generazioni dopo di noi, le parole. Proprio per questo motivo si augura di poter lasciare un mondo della musica migliore alle ragazze che verranno. La chiave del suo successo. La pazienza. La cantante ha confessato che il duro lavoro paga. Magari non immediatamente. Ma paga. Non c'è da mollare un centimetro. Me lo dicevo quando le cose non andavano bene. Dieci anni fa. Ovviamente avevo momenti di sconforto. Di crisi. Ma erano giornate, no? Non periodo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.